C'è tutti gli amici, e tutti gli amici sono stati 4 anni. Molte persone hanno cercato di convincere, negli anni, negli decenni, che non hanno portato uno stato di limite più verso valle, che è anche come logistica, se vuoi avere fatto una strada, che non è che il bambino sia più semplice, e loro, per sempre, a parte di questo territorio, hanno deciso di rimanere come tutto è nato.